ok si è stato censurato con un edit che ho fatto diversi anni fa di una scan di kamea sutra dove ci stanno gothen e trunks vestiti da hypebeast tutti supreme gucci è quello che viene della storia instagram si dopo tre anni facciamo un bel resoconto di di come è stata questa tortuosa strada di twitch vediamo un po di cose parliamo soprattutto di community perché io penso un sacco di cose belle di quest'uomo come sapete ne parlo sempre in live qui con noi questa sera dopo tre anni dal dalla nostra prima intervista chiacchierata cil abbiamo con noi giovanni ballerini e che don zombo e che il mio padre e che il number one most toxic e che i giovane salone italiano e che i the sandwich e che i bin laringai e che i dj cali e che i john magic vabbè taglio un poco e che i the drink e che i the trendset e che il trattato del drink scritto un'altra volta in questo copipasta e che il suo banni che colui che ha odiato tutto e tutti e parleremo di questa cosa e che i umanamente disgustoso e che i metal cooler chicco gaming lille bovets to time world heavy 8 crack champion e che i two times tag being champion e che i former top 100 in the world coi coi player e che il red legend lo faccio sempre e che il primo affarenta in italia onestamente italiano volpesco eccoci qua è lunga è lunga è lunga però vedi ne è passata di acqua sotto i ponti tanti tanti soprannomi tutti legati ovviamente a rispettive avventure interessanti ovviamente sì sì molto orgoglioso di questa di questo palmarès molto tra l'altro io tengo scritto c'è l'italiano jay simpson cazzarola jay simpson è pesante pensavo mi avresti messo giren si l'avevo pensato però il fatto è che mi sono trovato le prime due immagini e questa inedita questa non l'ho mai fatta vedere ed è molto imbecille queste immagini di kamea sutra con poi vabbè lo vedrai lo vedrai su youtube perché poi ti ripeto il vod se ne vola super veloce però su youtube facciamo una bella cosa se se ti va poi che la carico sul canale davidone che fa il bagno ricorda alcatraz davidone che fa il bagno che io poi tra l'altro con obi volpe perché nel lontano marzo 2020 febbraio 2021 che ormai sembrano 12 mila anni fa in quel in quell'occasione un mio amico toscano che fan tuo che ti seguiva molto all'epoca mi link o c'è volpesco e dissi chi è volpesco e vedi lo fra fa variare uno che fa devo fare un ruttone incredibile ok c'è praticamente questo streamer che sta facendo la reaction to a scimmie napoletane e da lì poi c'è da lì capito comunque io come vedi sono a allora si inizia si inizia possiamo assolutamente eccoci ora vedete me e ora vedete mio fratello volpesco eccoci qua eccoci qua ora fermiamo la chat box la facciamo un qua sopra guarda come siamo organizzati bene fra il mio quadernetto magico che lo stesso della di tre anni fa legend e tengo scritte alcune cose innanzitutto presentazione con tutti i nickname e l'ho fatta poi secondo punto che l'ho un po anticipato tra tutte le cose riguardo la tua community riguardo i meme soprattutto a parte che trovo estremamente ironico però ironico bello che tu c'hai il banner most toxic channel on the platform e letteralmente la tua community è la più pulita cioè è la community più pulita di twitch e c'è il banner sopra cooler con scritto most toxic channel bellissima questa cosa fra è l'adoro l'adoro è mai per quello bisogna freggiarsi di questi titoli bravo bisogna freggiarsene già che ce l'hanno dato il titolo almeno no poi lo flexiamo che poi a schermo tutto il c'è sono tipo due anni e mezzo quant'è che c'è quel cazzo di banner tu ogni giorno proprio l'alloro ho scritto il canale più tossico della piattaforma poi infatti realmente le persone che stanno dentro sono tutte persone buone bravi sono ragazzi capito cioè sono ragazzi che fondamentalmente si inebriano di queste tue live ci fanno i meme cioè perché ogni momento loro lo vedono come un potenziale meme da da mettere appunto sul canale di infatuated camp tester cioè è tutto così bello capito non è quella versione di twitch che poi si traspone su youtube come come freebooting e basta oppure come drama quello ha chiamato quello cioè appunto quando ci sta quando c'era quella clip di dario e poi c'era a aspetta come si chiama come fa quella canzone amo una ora dell'eval anghi king amo una ora l'eval anghi cioè capito quando ho visto quel meme la prima volta hanno risposto loro al posto tuo è bellissimo è infatti infatti cioè io lo sai come sono io cioè io sto zitto su certe cose perché non è il caso non è il caso non c'è bisogno io preferisco io sempre proprio sempre espresso questa cosa qua che io voglio che nessuno mi cacchi il cazzo io non cago il cazzo a nessuno che nessuno mi cacchi il cazzo a me quindi in quei casi lì ecco è bello diciamo che la risposta sia già come dire si si verbalizzi da sola praticamente no a livello di community è chiaro che poi c'è anche tantissima misconception no soprattutto da parte del pubblico su certe cose no perché dici ma a livello di numeri di pubblico di reazioni di interazione chiaramente interagire no da parte del creator quindi rispondere magari a certe cose è solo utile agli occhi di tante persone perché dici intanto mi espando tante persone nuove scoprono chi sono perché ho fatto il dramma ho fatto il bordello e tutti ne parlano e bla 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 e dall'altra parte dice anche inoltre hai la possibilità di parlare di rispondere per come dire andare a dissipare qualsiasi tipo di dubbio di roba cosa io dico sempre c'è io non è che sono c'è che fa tipo faccio l'influencer che deve stare lì a convincere le persone chi mi conosce le persone a cui tengo che insomma comunque mi conoscono bene o comunque anche le persone che vengono sempre in chat che i voglio bene veramente c'è lo sanno già la risposta a certe cose a me dispiace lo sai piuttosto che la verbalizzare quindi a me interessa delle persone che ci tengono a me a loro volta capito l'utenza di internet si aspetta quel tipo di situazione tipo ragazzi allora cosa è successo vi spiego in questo video tipo adesso basta parlo io mentre invece tu come me sei il tipo di persona che ha domanda ma che è successo tu diresti jarvis piglia lupara piglia lupara quindi c'è appunto non sarebbe sarebbe un detremento per quello che noi cerchiamo di portare su internet non anche perché si è vero alcune attenzioni possono essere visualizzazioni possono sempre per quel principio che non esiste pubblicità negativa però in realtà sì perché se io attraggo a me un certo tipo di utenza capito non in realtà poi mi sento e prima di andare a dormire la notte fisso il soffitto e faccio ma che cazzo ma che sto facendo è verissimo ma io sono convinto che ci sono tante così io sono d'accordissimo con te cioè nel senso mo sembra la cosa più normale del mondo perché lo stiamo dicendo noi però fuori c'è io vi assicuro che nessuno dice le cose che sta dicendo il matrix fuori c'è capito è il matrix è proprio tutto un altro un altro mondo io sono d'accordissimo ovviamente c'è per me proprio io proprio cazzo da 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 quando sono nato io certe cose ce le ho fisse proprio in testa proprio da sempre certe proprio principi di 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 interazione certi ideali proprio non so nel rapportarsi con le persone che mi per me è proprio impossibile fare determinati ragionamenti e neanche dici e vabbè lui c'è il suo personaggio che deve fare così che non può sottoporsi a certe cose perché ha sempre mostrato questo cioè io non ho mai fatto sforzi sparato 15 per forza a mia nonna scrivono comunque no c'è ragione al cento per cento però non è uno sforzo perché è proprio una roba normale no ma anche quando dici dice ma il tuo lavoro qui c'è il lavoro eccetera vabbè la parte che il lavoro non è nel lavoro però capito infatti c'è già che posso decidere cosa fare faccio così magari appunto fai qualche sacrificio in più ma non è che uno sforzo quello c'è lo sforzo per me sarebbe tipo veramente fare un video risposta a qualcuno che mi ha fatto una provocazione quello sarebbe lo sforzo enorme proprio non ce la farei neanche ma proprio mi fa ribrizzo l'idea di fare questa cosa qua è strano è il truman show capito quindi questo poi anche tutte le implicazioni che magari veramente a livello di pubblico sono difficili da vedere perché per tantissimi soprattutto c'è chi non vive questo questa realtà qua nel quotidiano c'è veramente proprio il teatrino degli scemi che stanno lì e abbuffano di stronzate e loro sono contenti giustamente lo spettatore è contento si guarda questi due che che si abbuffano e loro stanno lì a variare tutti insieme sul disco perché se lo guardano però io non riesco a entrare in quell'ottica la e loro magari appunto non tante persone loro tante persone io incluso che magari anche a me capita di vedere determinate cose io le guardo però con l'occhio di uno che ecco se le aspetti si conosce insomma un po il modo di ragionare che ci hanno gli stream le persone su internet che comunque appunto so quanto sono costruite determinate immagini determinate come anche community purtroppo tra virgolette non che sono proprio arti fi antico osi artificiose nel senso che non sono manca peccano di genuinità in tante cose no sì cioè le persone credono in cose che poi non corrispondono alla realtà e quindi c'è per me guardare una roba del genere proprio il nulla nel senso che oggi ho fatto uscire un video al riguardo tre minuti sul mio canale dove react house semplicemente facendo delle facce a un po tutto il drama di youtube italia e poi a un certo punto mi sono rotto il cazzo messo un gameplay di pepsi man è stato recepito molto bene come video e nonostante nonostante non avessi mai detto un cazzo bomba di video grazie lunzo nonostante non abbia detto un cazzo nel video mi sono sentito come o cazzo mo mo faccio partire la la diatriba nei commenti ma in realtà in realtà percepito benissimo la community la prima rispondere chiaramente no quindi loro lo sanno per la tua la mia comunate sono così la tua e la lì sì ma anche proprio io poi io i video tuoi ho visto il video del munaciello tipo per due giorni fa ieri non mi ricordo ma io sono come dire aggiornato sempre io i commenti poi ogni tanto riguardo insomma ce lo vedo che c'è sinergia no diciamo sì sì bello bello vedere che esistono delle realtà sì la mia community mi fa mi fa prendere bene anche commenti tipo a 35 secondi ago is crazy segue commenti a me me li fa prendere bene perché la mia community così come per te magari la stessa cosa per per un per forza è un di vedrai capito è la stessa identica cosa in realtà già già ti ho chiesto già mi ha risposto riguardo un po quel periodo strano che c'è stato con colui che ha odiato tutto e tutti già mi ha risposto alla fine però fra una cosa che una cosa che voglio ribadire è che la la strain no come l'erba la strain più bella dei meme che ha fatto xuliano e il canale in generale è stato proprio in quel periodo c'è quei otto nove mesi fa madonna fra mi sono schiattato alle risate con il sentenza me sentenza distrutto quella roba incredibile troppo bello ma vedi lì infatti anche la bisogna l'unica cosa che devi fare da quelle esperienze e tranne il bello cioè quella appunto quella reazione del sentenza che poi è un nome che non so chi cazzo l'ha tirato fuori il sentenza bellissimo c'è diventato una leggenda una leggenda per un gesto che poi ecco diciamo tra virgolette sbagliato magari per molti ho diventato l'olimpo proprio c'è un dio praticamente ma la strontata fantastico e poi c'è quella c'è umanamente disgustoso e poi c'era il meme tu od mio padre o la maglietta tua o quella di dada di spo e però dopo quello se quello era meta ironia si è trasformato in post meta ironia per 10 quando poi è diventato umanamente disgustoso emotivamente fedi frago for to day quando vedo certi meme che fanno c'è io proprio non è che mi commuovo esagerato però nel senso mi fa proprio c'è ti scaldano il cuore perché dici fra ma che bomba a me questo livello di meme mi fa proprio rizzare il cazzo fra c'è capito mi eccitano proprio perché significa che in un panorama pieno di 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 merda c'è c'è invece l'oro colato capito che per molti è merda per molte merda capito perché per esempio ma infatti per quello è il most toxic è per quello è il most toxic channel on the platform perché proprio questa roba qua viene recepita al contrario di quello che è no viene recepita come un muro no uno c'è proprio mettere il muro tra chi capisce chi non capisce cioè quando arriva un online chat tipo facevamo le speed run no di budo kite in calci tipo stavo andando world record pace alcuni in chat qualcuno mi spiega il meme depp e forze cioè ma è ovvio che ti abbuffano se tu fai una cosa del genere è chiaro che ti abbuffano ma poi ti abbuffano di bene in realtà è chiaro che in realtà stanno tutti quanti pariando quando viene insultato in quel momento no cioè cosa cosa ti devo spiegare veramente papà io me sto giocando in quella cazzo come fa no sei pazzo però appunto c'è nessuno si arrabbia realmente c'è è una cosa che fa mi fa pisciare addosso da ridere se uno mentre sto facendo la speed run mentre sto proprio sudando c'è sono viola ultimo split e uno mi chiede guaiù ma ho 100 euro nel conto in banca quale serie mi consigli di comprare tra devilman e full metal alchemist ma tu ti rendi conto ma da come come cazzo ti viene in mente tocca il 20 century rispondi quei meme del cazzo di sempre perché giustamente mi hanno scelta cosa vuoi che ti dica però fa molto ridere quando succede fa molto ridere ovviamente me la godo e quindi insomma tantissime persone lo vedono come un mettere una sorta di distanza una gate keeping no chiamano ma cioè non è per niente così poi in realtà anzi cioè anzi una delle cose ti invogli a entrare nella comunità sì infatti adoro quelle persone che magari arrivano in chat io intanto sul cane mio esistono persone bannate per c'è ragioni nel senso c'è proprio obbligo nel senso che va bannato punto e basta perché ha detto magari qualcosa che non può rimanere scritto sullo schermo perché altrimenti perdo il canale quindi insomma ok però c'è personalmente ce n'abbiamo mai preso e bannato nessuno proprio di nel senso tipo uno che veniva la insultava non è mai successa una cosa del genere perché quelli che insultano mi fanno venire il cazzo di marmo fra cioè io sono il più felice se viene uno che mi insulta non esiste una cosa che mi rende più felice perché tu stai tranquillo quello là che sta insultando dopo un quarto d'ora 10 minuti sarà la persona più felice di essere in quella chat tutti gli vogliono bene come arriva uno che mi insulta e io lo saluto arriva tipo pisellone omega il regala la sub già entra nel gruppo telegram subito ma non per abbuffarlo perché è un buona buona una buona presenza di però hai preso hai preso tipo i homeless e li hai resi i più ricchi al mondo capito è fatto è fatto tipo quando i barbieri in america vanno dai 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 barbuni gli fanno gli fanno il taper cut io sono il più felice se metto una cosa di questo tipo fantastica è la cosa più bella del mondo per me questa roba stupenda poi va bene insomma c'è se vado ospite da qualcuno lo sai che comunque c'è è di solito una persona che mi conosce bene o comunque insomma ti racconto un aneddotino ti racconto un aneddoto io andai in live da dario come ospite tipo due anni fa perché andrea storni ragazzo quello che ne capisce anche un po di me c'è molto in realtà è molto nella community fondamentalmente mi chiamo e io dissi dario ma perché è bloccato ti garba il cazzo su instagram è stato fra è stato bella è un po in attiva però mi segue segue le storie di frango avevo un cazzo di mano c'era aveva messo sta storia fra nelle storie c'era una ragosta che stava cucinando dentro una padella proprio carica di olio una ragosta e da sola con la sua che era che stava cucinando dentro la padella e sotto c'è scritto luogo ristorante via dei quinceri con spongebob che vola freak bob che volava ho scritto ristorante l'indiano l'indiano che fa le pappaccelle piene di me no bravo basso 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 e niente no quello quel momento in live da dario è stata tipo la rivincita di noi capito di di noi di noi non normi alla fine è capito fra cioè perché poi noi veniamo considerati secondo me in maniera un po un po ingiusta proprio i rincoglioniti del cazzo ma noi invece abbiamo capito tutto di internet e io lo dirò fino alla morte anzi anzi stiamo normalizzando troppo determinate cose determinate culture questa è una cosa che io penso un po di riflesso anche a quello che vedo ti garba il cazzo ha portato un'innovazione incredibile ma ci sta ci sta cazzo merda posting ci sta omar mix alla capito ci sta ci sta un tot di roba veramente forte c'è questa giusta rivincita della dello shit posting dei meme di questa cosa però il troppo poi ci alla gente che invece vuole atteggiarsi un po a meme master meme maker che in realtà sono norme come poche cose si si gentrifica un po questo meme e quindi ci vuole la giusta misura in tutto anche nella cultura anime e manga capito cioè se tipo dieci anni fa dicevi e no sono un grande fan di evangelion e sono sfigato del cazzo mo invece cazzo fra jujutsu kaisen o jujutsu kaisen facciamo un'orgia cioè capito un po così colpe sono michael jackson ho bisogno di soldi bellissimo bellissimo e io mi sono pisciato sotto per quella stronzola la però è normale come sempre quando vogliono fare troppo che poi in realtà è probabilmente anche che è un tipo di umorismo che è anche molto affine sia chi è su internet da tantissimo e quello che lo conosce bene sia a chi magari ecco anche ragazzini anche abbastanza molto giovani pure che insomma vedono solamente il non sense il il lato quello un pochino più 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 becero diciamo della cosa quando in realtà noi sappiamo bene quanto in realtà ci sia tanto da dire quanti strati ci siano dietro a questo tipo di di ironia no quanto quanto sia deep in realtà rispetto a al meme relatabile sui sui post di instagram che vuoi fare pure c'è pure prime video te li fa capisce non è che roba poldo poldo ci ha fatto un video bellissimo sui meme corporate noi apparteniamo apparteniamo non solo a un'epoca ma anche a un contesto dove mentre gli altri magari coetanei nostri dieci anni fa andavano a vedere su tumblr le cose keep calm e qualsiasi cosa noi vedevamo i i porno furri di sonic con i piedi fetosi giganti vor con emi rose nella pancia gigante di sonic capito voglio dire siamo un po cresciuti con con queste visioni surrealiste comunque roba pesante roba già avanzata roba già avanzata sì c'è anche la questione secondo me pre smartphone post smartphone questo ambiente che ha cambiato tantissimo la fruizione e quindi anche l'importanza che si dà al prodotto in sé sia da chi fruisce che da chi lo crea no c'è mo siamo arrivati appunto al al tik tok ripostato sui ril di instagram ma c'è proprio non c'è più è cambiato completamente il modo di concepire religione non c'è più religione non c'è più si stava meglio quando si stava peggio ci sono le mezze stagione mo si trova il fuoco più assoluto si trova il fuoco più assoluto anche negli ambienti proprio più più blasonati quelli più esposti anche nei ril di sagamo io talvolta trovo il fuoco è più totale talvolta può succedere si può succedere però insomma non è che proprio una roba automatica la minore comunque pausa bombolone pausa bombolone caffè bombolone caffè pausa bombolone caffè bomba bomba quel video bomba bellissimo non è neanche shitposting non è shitposting però arriva a quella dimensione perché poi parliamoci chiaro cioè qua lo dico qua lo ripeterò all'infinito normi non normi denk non denk alla fine si tratta solo di avere un senso dell'umorismo come il cristo signore comanda e invece un senso dell'umorismo di merda per esempio fra il fatto del brain rot no mo su un anno e mezzo che il brain rot lo schibbi di toilette rizzino aio baby groan carizzato il ghiato tutte queste stronzate qua in realtà modem mo mamma mia questa generazione è perduta fra dieci anni va a dieci anni fa avevamo i montaggi mlg ma non era quello il brain rot di dieci anni fa con gli it marker con la monta in due cioè capito il meme di spongebob fitti quello lì è nel senso c'è l'effetto un po' come prima cioè che si stava meglio quando si stava peggio però la realtà dei fatti è che appunto è la stessa cosa che succedeva pure prima nel senso è un altro modo di di concepirlo anche perché l'era legato al gaming poi a tutto quello un altro mondo un altro tipo di cosa però c'è sì ce l'abbiamo avuto e tutti le stronzate mangia cervello c'è c'era la peggio merda su youtube pure a quei tempi c'era voglio dire cazzo cambia sono cambiate tantissime cose ma la merda sempre lista c'è c'era prima come c'è ora semplicemente rapporto di quantità probabilmente no che te la fa pesare un pochino di più perché è chiaro che non senso ci abbiamo 30 anni certe cose non magari non fanno più ridere effettivamente anche c'è mosi se vedo appunto è baby gronk che ha rizzato il ghiat sì c'è mi fa ridere solamente così menzionarlo non è che poi effettivamente se mi appare in un realista non sono particolarmente contento avrei preferito non vederlo però insomma però pazienza così a me il momento che mi piace di più forse dei meme quelli più corporate tra virgolette no li chiamo corporate nel senso istituzionalizzati quelli più normali no alla fine quando era venuto fuori tipo la cosa di english spanish appena venuto fuori diceva boh diceva boh ok carino dopo un attimo già ti è passata la voglia perché purtroppo poi se alla radice nascono male poi non reggono automaticamente e appena hanno iniziato come dire a aggiungere un qualcosa al formato già secondo me si è creato qualcosa di interessante tipo cazzo ne so boh c'è me ne è venuto fuori storie me lo sono pure salvato perché c'è proprio ridere ma c'è sincero c'è proprio un meme english spanish che ma proprio mi faceva veramente ridere era questo qua in mezzo alla strada che gli fa english spanish lui rimane bloccato e dietro di lui c'è questo mercedes che sta correndo fortissimo verso lui e lo investe c'è proprio lo investe lui è rimasto bloccato è rimasto ribloccato e questo lo mette sotto così però c'è insomma l'ho apprezzato perché almeno ecco c'è una craftsmanship in più no alla struttura di base che magari non mi fa ridere e quando c'è quel alla fine a tutti i meme succede sta cosa no che quando iniziano a rompere il cazzo a tanta gente dopo un po gli fanno c'è la decostruzione del meme esatto due anni fa infatti altro esempio voglio un attimo leggere al volo questa cosa che l'ho pinata ieri stavo a salerno con amici e stavano dei lavori cadono delle sbarre di ferro e iniziamo a ridere come degli scemi pensando a metal pipe falling e tra l'altro fratello tu mi hai ricordato aspetta rimuvi dal primo piano tu mi hai ricordato che io ho un o questa sound bar forse potrei essere leggermente loud però ho questa sound bar con questo non l'hai sentito l'hanno sentito i ragazzi va bene comunque hai fatto cadere la barra di fatto cadere la barra di ferro precisamente alla barra di ferro e poi certi invece vengono fuori proprio da soli come tizio punto da mille api che uguale a volpe madonna la foto a quella foto quella che poi poi c'era quella e poi il commercialista che poi il mio commercialista non è grasso perché ogni volta che parlano del commercialista mio sempre mostrano queste immagini una panza proprio c'è un pomodoro no enorme un pomodoro gigante perché praticamente c'era questo questo meme questa battuta questa barzelletta diciamo decostruita che mi aveva mandato mia madre su whatsapp di quel tizio c'è grassissimo con due nuvolette c'è la moglie che chiede a quell'uomo gli chiede come era il commercialista rifà era com'era il dietologo com'è andato com'era il dietologo e lui risponde bonode perché l'ha appena ingoiato no questo lo dovresti dedurre dal fatto che lui è comicamente grasso cioè grassissimo veramente enorme una botte che esplode dice bonode da quel meme su un mio padre meme probabilmente non lo so che cazzo era successo anziché il dietologo hanno messo il commercialista il mio commercialista e quindi ora l'immagine del mio commercialista è associato a quest'uomo grassissimo anche se è un uomo non la sapevo questa cosa non so se la sapevano anche i ragazzi è una roba successa al volo proprio è bello bello senza l'amore mi è piaciuto sì e ho avuto tanti screzzi con il commercialista e niente hanno fatto pure poi neocommercialisti cioè dove prendevano tutte le persone commercialista quindi uomini panzuti molto grassi molto panzuti e decidevano chi era il commercialista il più commercialista che che spettacolo che spettacolo tutto quello che gira intorno a te alle tue live alla tua community eccezionale fra c'è un'altra c'è un'altra cosina scritta ho visto che negli ultimi due tre mesetti ai ha iniziato a fare live sia sia un po più spesso che anche a orari un po un po c'è ad cazzo ad cazzo è uno step successivo era un'idea su questo nuovo modus operandi c'è fai così perché è semplicemente meglio per per i cazzi tuoi o ai dei miei oggetti comodo che più come un perché quando allora nel senso se devo fare live corte tipo come sto facendo mo è sempre perché comunque c'ho di mezzo o il riposo o il lavoro quindi magari c'ho altre cose da fare e quindi insomma diventa impossibile fare live lunghe però per dire due mesi fa quant'è o tre mesi fa tipo attaccavo anche magari alle tre alle due e stavo in live magari cinque ore sei ore c'è roba che io non proprio non esistimo perché c'ho magari da fare delle cose quindi mi è difficile ma anche anche riposare banalmente a volte perché insomma poi ti aiuta anche a fare di più però è mi mette molto più a mio agio dire faccio quando quando tempo quando mi sento bene soprattutto ecco quello in realtà era il primo momento perché l'ultimo anno molto complesso e sta ultimo anno e mezzo ecco diciamo è stato molto molto complesso molto pesante provante sia a livello di lavoro quindi di impegni che a livello emotivo ma proprio assai c'è proprio un anno veramente distruttivo quindi mo anche per appunto agevolare la ripresa per essere tranquillo di stare meglio senza forzarmi ecco voglio avere più tempo anche per me magari anche lavorare poi mi fa stare bene in realtà cioè io sono uno che ha la fortuna di fare cose che che lo soddisfano che gli piacciono appunto fare le live e fare fumetti fare lavorare ecco comunque in ambito artistico quindi c'è per me è una soddisfazione grande e farlo è un piacere cioè quando mi metto lì non è che mi lamento che non c'ho voglia cioè sono felice di farlo quindi gli do volentieri del tempo e non voglio trascurare nessuna delle cose che faccio però appunto è difficile se poi quella live anziché durarti due ore te ne dura anche quattro no che magari se io devo scrivere devo fare magari scrivere anche per i video di youtube mo che c'è pure quello insomma diventa un po complicato gestire tutto e anche il riposo appunto ovviamente quindi a seconda delle giornate quello dovevo poi diciamo avuto in mezzo insomma il trasferimento e si accumulano tante cose alla fine diventa diventa dura non puoi non sarei tranquillo se io dicessi alla gente cioè se abituassi tutte le persone a ogni giorno quattro ore di live cinque ore di live devo essere felice tranquillo ecco facendo cioè se io devo andare là e pensare minchia mo devo fare quattro ore non c'ho tempo per fare un cazzo fra cioè è bruttissimo è proprio brutto io tempo che scorre mi pesa tantissimo io davvero stessa identica situazione tua cioè ho trovato questa pace di fare le live quando mi cazzo pare a me quando mi mi pare e quando ho voglia e fondamentalmente nell'ultimo annetto ho avuto un po di difficoltà ho avuto un'epifania verso dicembre perché ho detto ok ci sto impiegando molte forze molto tempo molte cose nella mia vita stanno cambiando alcune sono proprio una prova di resistenza cioè ho dovuto buttare un po di sangue e ho detto ok internet me lo devo vivere non lo devo vivere bene me lo devo vivere come piace a me altrimenti se io mi creo il problema del fatto che un video per cui ho messo tanto impegno fa cinquemila visualizzazioni o c'ho un problema che non mi fa fare live su twitch e quindi molta gente magari penso mi viene l'ansia che se ne va oppure non riesco a battere il ferro finché è caldo su una questione neapolitan che ne pensi di questo faccio un video faccio un video cioè a un certo punto io mi creo una serie di problematiche che non possono accumularsi alle problematiche della vita reale e non del max capito e le problematiche della vita reale sono vere cioè banalmente e invece invece qua in questo in questo in rettangolo io penso che il segreto sia cioè non importa quante ore fai non importa quanti giorni stai live cosa porti sul canale cosa porti su twitch cioè l'importante che tu arrivi qua e dici sto bene perché se per un secondo non è così te ne accorgi tu non se ne accorge la gente che ti guarda esatto esatto sì ma tante volte ma mi è capitato anche da avere momenti magari dove effettivamente non stavo bene andavo in live anche se non stavo bene si capiva comunque c'è poi realtà ogni volta quando mi chiedono come stai dico sempre fra una merda fra una merda cioè io lo dico se sto di merda ma quello è giusto l'ho fatto anch'io quello è giusto però magari sai qual è la cosa pericolosa che stiamo vedendo mo su youtube italia sempre ritornando al video che ho fatto io che la gente dice è ragazzi qua abbiamo tutto perfetto bellissimo poi spengono la web ed è una miseria di cioè psicologica allucinante ma infatti non lo so come fanno stare determinate persone se tu vai là e c'è le tarantelle f finta di non averle quello diventa proprio diventa brutto ma io non so io non so come fanno tante persone a farlo cioè ma non tanto perché dici io non riuscirei mai ad essere così falso così arrogante così perché quello già si sa cioè io proprio non ce l'ho nella nella mia formazione proprio ecco diciamo di essere uno che va a mostrarsi per qualcosa che non è ma cioè se in più ci metti che effettivamente sta persona sta male cioè se domani che cazzo ne so ciccio gamer va in live e nella sua vita in realtà lui sta malissimo che ne sai io non so niente magari sta la persona che sta peggio del mondo proprio la persona più triste dell'universo cioè come fa ad andare allegro come fa a rimanere allegro ad essere sereno a mostrare allegria anche finta come cazzo fai no e ripeto non è un concetto di falsità perché dice vabbè è il suo lavoro lui ci tiene che anche a mostrare qualcosa che non è reale ma perché è quello che le persone vogliono va bene ma come cazzo fai non perché è falso e se sbagli a fare qualcosa di falso e poi aprire e chiudere una parentesi complimenti no no infatti infatti sono d'accordissimo poi apriamo e chiudiamo parentesi due supercar vedrai due super car ragazzi ma ciccio può avere pure due supercar nel momento in cui nessuno gli ha detto prima di pubblicare quel video assurdo ciccio ma che cazzo stai per pubblicare fra ma che cazzo è sto video se nessuno nella sua cerchia di persone gli ha detto fermati un attimo significa che tu le supercar te le fumi cioè non ti servono a un cazzo se nella cerchia non hai gente che ti dice aspetta ma come stai tutto a posto cioè capito è quello è fatto perché quel video la io ho cerchi si è strano ho cercato di leggere tra le righe di quel video la però è era un secondo me era un grido dai un grido d'aiuto senza la capacità dialettica e emotiva di saperlo gridare è stato strano quel video molto strano però giustamente è uscito il meme supercar è uscito il meme la cosa che mi fa stare tranquillo e vedere gli altri calare che ok io non l'ho visto ho sentito per osmosi certe cose ma questa non avevo sentita però ci sta una parte ci sta una parte che lui gode quando vede la gente che che non ho fatto ma non voglio fare limitazione nonostante la so farà abbastanza ha detto testuali parole una la cosa che in questo periodo di difficoltà tra visualizzazioni progetti e cose mi fa stare un po' più sereno e vedere anche gli altri piano piano pausa pausa calare fallire sa tutti quanti una merda madonna fra bello cioè c'era allora ci vuole coraggio a dire una cosa sì ma sai sai come poteva dire poteva dire comunque in questo nuovo algoritmo di youtube cioè se avesse avuto una proprietà di lessico un po più consola esatto ma perché ho capito benissimo cosa vuol dire esatto c'è non è tipo la malvagità che dice io voglio vedere gli altri che che crollano perché sono valvano e dice se vedo che tutti quanti effettivamente hanno un calo mi tranquillizzo pure io perché vuol dire che il calo è di tutti quanti c'è non è solamente mio però sì c'è un po è che capito presto sicuramente male si ha detto così poi si no ha detto non poteva dirlo peggio fra non poteva questo anno scorso anno successo tante volte questa cosa di dire malissimo delle cose che potevano essere espresse in maniera normale da creator vari non parlo di nessuno in particolare è abbastanza scontato anche però fa ridere ma fa anche riflettere come diciamo sempre perché arriva fa anche riflettere è strano pensare che queste persone vabbè che poi magari dici queste sono problematiche anche un pochino più più particolari che magari dici ciccio o chi è nelle altre occasioni evita di farle vedere pure gli amici magari pure di confidarsi con qualcuno al riguardo e quindi non hanno effettivamente una un feedback che gli dica guaiù ma cioè se tu metti questo video sei pazzo cioè non ce l'hanno quel anche magari la forza emotiva di farlo però se tu in un video dici la cosa che mi fa sta tranquillo è che gli altri piano piano stanno calando sound font proprio ricopiato perfettamente poteva poti giuro poteva dire in questo nuovo algoritmo di youtube e vedo che tutti quanti stiamo sulla stessa barca di merda quindi un pochino mi rincuora il fatto che siamo accomunati dalla stessa difficoltà certo certo impacchettato bellissimo bellissimo ecco è bellissima ma si vede che siamo studiati si vede che siamo studiati o tra l'altro penso penso che in questo rettangolo gli unici due streamer laureati di twitch italia può essere a questo punto vado un attimo a cambiarmi la maglietta me ne metto un'altra sempre del mio merci perché sto morendo quindi mi censura un attimo dice su e vado a prendere un'altra poi garden mai amo posso che si sente sì 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 sono qua qua tra l'altro studiato così tanto che se mai mi sono laccato i capelli in una maniera tra ma infatti sei fresco è so fuoco grazie che da dato che andrà pure sul canale ragazzi trovate il merch trovate il merch sul sito di shipping dog napoli tan fresh merch piccolo plaggettino goelir al contrario goelir goelir qualcosa riguardo progetti futuri ai progetti al fumetto che stai lavorando a un fumetto più fumetti sì sì poi fra io ti direi tutto ma ci sono orecchie ci sono orecchie da mercante qua sempre sono orecchie da mercante al mechi moves in silence in silence brah i have information that my enemy i cannot share with you right now because the haters will sabotage i have plans i have plans brah capito just letting everyone know that i'm making moves in silence just a heads up si capito quindi purtroppo non posso più di tanto invece invece un coglione che annuncio sempre tutto e mo sto cercando di avviare una fase del canale youtube un po diversa perché ho fatto dal 2018 al 2020 21 la fase un po più meme dal 2020 21 fino a ora la fase quella streamer ricarico le mie stesse clip faccio queste cose qua ma voglio fare una fase sperimentale pazza in culo cioè voglio voglio sperimentare ma mostri spaccando su youtube stai in una zona che a me piace assai personalmente cioè in italia ad avercene canali così cioè che fanno questo tipo di di video che è raffinato anche non senso a pillole tra virgolette ma sempre raffinato bene cioè proprio piacevole anche quando è ricaricato comunque sempre fatto con cognizione di causa funziona bene e non fa nessuno quindi è fuoco a noi ci piacciono un po le stesse cose anche quindi ma le sei insomma tutte le cose souls tutto quel tipo poi anche di ironia che si crea attorno a quel tipo di situazioni personaggi immaginari è molto è molto bello è molto bello si 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 bellissimo bellissimo l'intervisto grazie tra lo zappi delle comini e canali si sente proprio il caldo si sente proprio che sarà ma stava cercato mamma mia veramente veramente è bellissimo bellissimo allora ai mons silenti sì io io pure c'ho qualche mons silenti in realtà però semplicemente la gente sa cosa sto lavorando ma non sa come cioè il come sia dilata dilatando i tempi all'infinito è questo vabbè quello è inevitabile quello inevitabile si fa fatica a stare dietro le cose è normale sì sì vabbè la mia fase sperimentale in realtà sarà un po una una scusa per la mia fase di vita ultimo anno di magistrale tirocinio quindi ho da fare quindi lasciatelo cucinare ma neapolitan che fino a tra otto faccio così tra tot mesi io starò completamente dentro università e cazzi miei e la gente lasciatelo cucinare ragazzi ma sono tre mesi che non fa un video ma voi lasciatelo fare quello la fase sperimentale vabbè ma pure li cucini in realtà è normale perché poi ne esci fuori che io sempre come di sono proprio scemo perché prendo e mi accumulo delle cazzate fichissime eh proprio delle cose fichissime che magari appunto vengono fatte effettivamente in silenzio poi cioè non anche senza mettere nome voce niente proprio semplicemente le faccio magari con amici o per aiutare degli amici a fare cose e me le accollo tutte perché sono bellissime mi piacciono un sacco e mi fanno piacere e poi alla fine quando voglio poi mettermi a fare altre cose mi trovo davanti altre occasioni belle altri progetti carini a cui partecipare devo purtroppo declinare perché già mi sono azzeccato su un sacco di cose insieme poi me ne azzecco su altre ogni volta appena se ne toglie uno slot arriva qualcos'altro che lo occupa quindi sono proprio uno scemo perché poi mi manca il tempo per dedicarmi bene a una sola cosa due cose ma poi un'altra cosa cosa che aggiungo e magari se ce l'hai pure tu siamo proprio fratelli separati alla nascita di 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 neurodivergenza io per esempio quando sto all'università o quando sto infatti lavorativi comunque faccende personali penso costantemente a internet i video cosa fare nei video tutta la sfera internet presenza online quando poi sto lavorando alle cose di presenza online penso all'università ai cazzi miei all'appiccico con la ragazza penso a che sono bruc e sfac capito ovvio è normale normale è impossibile stare tranquilli è impossibile stare tranquilli è impossibile stare tranquilli è impossibile sentirai sempre in colpa di quello che stai facendo in quel momento cioè senti magari un attimo quella quella scarica di un attimo di piacere e dici sto facendo qualcosa che mi piace magari poi non sempre però magari appunto quando fai quello qualcosa che ti piace ce l'hai la scarica di lavoro poi ti sto parlando è cioè non di cazzate stai lavorando qualcosa che ti piace e poi ti azzecchi con i pensieri delle tutte le altre cose che devi fare di quello che non stai facendo e ma il mio ordine di priorità mi sa che l'ho sbagliato c'è proprio non si può stare tranquilli un saluto angelo masullo comunque è masullone ma tra l'altro prima in chat forse mi è parso di aver letto non vi siete cagati caverna di platone se stava domenico un bacione a domenico e angelo ragazzi un bacione abbraccio un abbraccio fortissimo maietta guelir e guelir bellissimo guelir per giovanni ballerini before gta 6 aspetta un po di sound effect un po di sound effect ma io sono un grande fan dell'inversione di due lettere di una parola che la persona è una parola divertente non funziona sempre però quando è tipo guelir guelir spacca grazie sono contento però una volta una volta l'ho indossata per andare in giro così normalmente a napoli e secondo me molta gente non l'ha non ha non ha sì molta gente l'ha presa per uno per una maglietta di merchandising normale sì 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 al primo impatto poi la guardi meglio graficamente validissima graficamente c'era che dici c'è una maglietta una pezzottata no cioè graficamente può essere un merce ufficiale tranquillissimamente cioè perché ho visto roba tremenda questa è anche una bella maglietta poi guardi bene di scritta gli occhi vedi gli occhi in cima c'è che poi questo è il tatuaggio di gaetanino come nano microcefalo non è presente questo è un disegno che ho trovato su tik tok e questo su google immagine eccezionale maru bellissimo eccezionale questo spacca questo spacca qua fra pure io ho fatto il merce la prima volta l'anno scorso è quello sempre ritornando vediamo di ecco vediamo di fare qualcosa tipo per per fine di quest'anno magari altro merce e anche restock sì insomma quello anche ci stiamo mettendo sotto ti volevo chiedere domanda non mi sono scritto nemmeno così ai stai guardando cose a livello di serie leggendo manga guardando anime qualsiasi di giocando a videogiochi ultimamente cosa ci stanno niente purtroppo di solito leggo e basta c'è non guardo mai anime proprio anime io sono molto nulla no ho visto tanta roba però leggo principalmente leggo quasi quasi solo leggendo fruisco di di questo tipo di prodotti però non sto leggendo l'ultima l'ultima cosa che ho letto anzi riletto in questo caso era zatch bell non so se ti ricordi che come no ho riassumato zatch bell grazie a shark l cosa aveva fatto un personaggio di un personaggio su un personaggio afficcato zatch bell dentro in mezzo a in mezzo a personaggi di bio bio kai watch non lo so c'è un genio avevo riletto youtube non è pronta a shark e le no lo so frank king lui è il maestro assoluto ok si insomma l'ho riletto quello e guardando passo guardando arcane quello di league of legends è bello bello devo ammettere che è una bella un bel prodotto per ora e poi sta uscendo il non è un remake perché è una serie anime nuova di kimmy kuman cioè padre di altri ma quelli di quel è praticamente i tempi c'è era uscito sto anime tipo mille anni fa c'è roba sta vecchia immaginale tipo ho visto visto mega razzista tra nessuna parte per questo c'è la peggio roba fra fa paura da quanto c'è lottatore lottatore dalla cina super razzista lottatore dall'america super razzista lottatore dall'articolo a quello della germania secondo te fra e noi lo so che c'è so che so che è quello in ultimate muscle è invece quello il padre è il padre è uguale però anche un pochino più ecco no c'è ramen man c'è quello italiano che è mafioso chiaramente è tutto bello c'è proprio come ti aspetti tutto come ti aspetteresti giapponese bellissimo è stupendo però è quel razzismo che fa ridere quel razzismo accompagnone che andrebbe accolto no si scherza però andrebbe accolto a livello si può si va preso un pochino come in italiani come in italiani che noi sicuri albico ma noi siamo superiori però tu mi fai pari a te voglio bene e tipo di questo anime stavano tipo c'è sottotitolati ci sono tipo 83 86 episodi una cosa del genere che io mi ero visto quando andavo all'università gli ultimi e mi era piaciuto da morire c'è proprio ero innamorato di quella roba mi sono poi letto tutto il fumetto c'è tutto insomma è una roba che ancora muova avanti calcola quindi insomma sono andato avanti fino all'equivalente di quello che sarebbe ultimate muscle quello che abbiamo visto in tv noi no sì quindi mi sono letto diciamo tutta la parte prima di ultimate muscle e mo sta uscendo questa serie che si fa un piccolo recap tipo di quello che è successo in quei non 83 episodi perché 83 sono solo quelli subati però non è che andava molto più in là e e poi insomma va avanti con un altro arco che non era stato animato e niente mo sto guardando quello quando esce e c'è insomma io sono un grande fan quindi insomma me lo dovevo recuperare comunque a parte quello un cazzo pure video giochi giochi un cazzo c'è mo scoperto isaac c'è lo sto giocando proprio le prime volte non avevo mai proprio c'è non so proprio un cazzo se uno metteva anche tipo video su youtube mai visti live su twitch gente che giocava isaac proprio mai guarda cioè a massimo tipo se ci giocava qualcuno che proprio mi me lo seguivo volentieri gli scrivevo tipo in chat cose che io avevo capito magari solo per osmosi vedendo le altre persone in chat che le dicevano no tipo entrava in una stanza scrivevo tinted no perché avevo capito che tinted erano tipo queste rocce che se tu le fai esplodere ci puoi trovare dentro degli oggetti ok e ogni volta non c'era proprio niente non avevo idea di cosa neanche come distinguerla una tinta da non una tinta e quindi tutti stavano di azzeccarsi guardare su ste rocce e non c'era un cazzo infatti era l'unica cosa che quando ho giocato ad isaac l'unica cosa che mi ricordavo cos'era era la tinta per il resto non sapevo niente quindi insomma non avevo idea di nulla e mo ci sto giocando per le prime volte fra bello a pariare fa pariare un bel gioco gioco io non ho giocando ancora l'eldering di osi non ho ancora no ebbe impegnativo impegnativo fra io invece ultimo anime che ho visto proprio perché capito c'è se c'è una direzione io devo andare non nella direzione opposta da andare in quella sottoterra c'è capito proprio mainstream esiste io lo devo completamente distruggere ho visto lane come si chiama il nome completo come si chiama serial experience serial experiment serial experience serial experiment lane e mi ha intrisato mi ha intrippato mentre il padre forte è bello è bello in culo è bello assai i ball in si è potente potente però guardati di rossi come una roba che probabilmente hanno avuto pure gli americani è abbastanza è molto riconosciuto ecco diciamo purtroppo c'erano tante di hot takes del cazzo secondo me e tanti fanno una cazzo di aura assurda e bisogna avere paura a dire se non ti piace se è una roba non l'apprezzi poi io porco dio c'è non è che se una roba è famosissima allora automaticamente tutti quanti dobbiamo inchinarci c'è l'effetto opposto è che se una roba invece è di nick per forza bellissima perché poi sono invece il tipo di persona che ho questa cosa la so solo io poi inizia a diventare popolare la odio capito io sono così proprio fra io purtroppo diciamo che rimango deluso tipo quando una roba che mi piace tantissimo non conosce nessuno poi la scoprono tutti appunto le lane quando l'ho guardato io la prima volta che poi infatti di recente l'ho riguardato e quello capirlo meglio in realtà lane la prima volta che lo guardai un anno e mezzo fa sì un anno e mezzo fa a un certo punto diventò molto virale e new don't seem to understand eredissimo affanculo vaffanculo cioè se un anime va in america lo conoscono tutti cioè automaticamente uno di quelli che c'ha laura attorno che bisogna stare attenti a parlarne male eccetera che poi esistono pure a mio parere quelli che se ne parli male devi stare veramente attento veramente attento ci sono ci sono ma ci cazzo ne so tu prendi dragon ball no ma come detto napoletano dragon bull eh sì tu prendi dragon ball se tu mi vai a dire qualcosa da di male su dragon ball non è che automaticamente stai sbagliando però tu devi stare veramente tanto attento tanto sì tanto 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 attento lì devi stare tanto attento sì perché se stai che ti mi dici determinate cose se tu dici determinate cose automaticamente non è che io ti do contro perché la tua opinione è diversa dalla mia io ti dico di stare zitto perché se dici determinate cose vuol dire che tu molto probabilmente non 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 hai i mezzi per criticare per parlarne eh tu esatto cioè tu non hai ancora proprio quelle fondamenta che ti permettono di estrapolare le informazioni da quel prodotto che tu stai guardando che stai andando a criticare magari no quindi c'è fai un passo indietro tu magari su certe cose prima fatti una oh fatti una cultura cioè veramente vai a studiare veramente su certe cose su certe cose bisogna stare veramente attenti però se uno mi viene a dire fra me monster mi ha fatto cacare io ti dico guaiù ma pura me pura meno ha fatto cacare cioè non c'è proprio nessun problema cioè per me urasawa no è presente 20 century boys monster robe cose master keaton pluto cioè per me lui è tutt'altro che un genio cioè lo rispetto perché ha fatto roba che ho letto che mi ha anche intrattenuto mi è piaciuta però c'è chiamarlo un genio e sinceramente praticamente il 90 per cento delle cose che ha fatto sono tutte quante la stessa struttura identica identica mentre magari potresti dire che è molto appunto c'è c'è un una grande intuito ecco nel costruire intrecci no nel costruire delle storie con il mistero nel saperti centellinare determinate informazioni per poi giungere insomma alla fine di questo viaggio di questo mistero ottenere tutte le risposte per il lettore però lo fa sempre nello stesso modo comunque no c'è la storia che crea è interessante ma a volte a quella tira pure certe boiate che non si sa che cazzo però ecco diciamo che tante volte quello che rimane sono altre cose perché lui c'ha molte cose c'è a livello proprio di come dire c'è qualcosa che non sia per forza struttura non sia un pochino meno tecnico diciamo che sia invece più invece sia invece più legato insomma allo sviluppo del personaggio il modo in in cui il personaggio si pone la psicologia del personaggio lì è molto bravo lì è bravissimo mi piace un sacco il tipo di lavoro che fa perché lui ne costruisce tanti te ne mostra tantissime te li sviluppa tutti anche magari all'interno di un singolo volume no io solo pluto conosco bene tutto quel mio preferito suo per dire è perché il più corto fra io mostro mostro ho provato ad avvicinarmi ma sia l'anime che il manga su dei casati e lì proprio quelli con lo strutturo comunque è bello sono dei sono dei bellissimi 8x questo e se dopo sul mio quando caricherò il video sul canale youtube poi fanno tipo volpescu cosa ha detto e succedono quelle situazioni sempre lo dico cazzo di marmo fra sì sì ma tanto lo sanno già c'è lo dico sempre i difetti che c'ha lui sono secondo me evidenti e appunto anche questa prolissità spesso no pluto invece se non è quello che funziona meglio che riesce a trovare un ritmo anche perché il tipo di azione che c'è in pluto è un pochino più azione c'è pera no molto concreta luto e sincero no quindi ti fa uno stacco un pochino più valido ecco diciamo quindi per me lui è un genio in determinate cose genio è bravissimo in determinate cose però ecco veramente a livello di struttura per me è diventato pesante c'è dopo che detto il primo e il secondo è tost pesante vuoi dire il mio possa cenere si fa quanto è stuocco mi the juice box come the drink cup lui è the cup the keys the father l'hai visto la canzone proprio e non la voglio cantare perché mi esce facile la parola con la n se la canto nei commenti tra ma la bomba quella quel canale la sì sì fa tutti i doppiaggi ce ne sta uno su instagram eccezionale che praticamente fa tutto l'universo di dragon ball in versione hood ghetto che va dal barbiere e ci sta la voce e ci sta lui come personaggio ricorrente che si muove c'è normale lui fa il barbiere e ci sta gohan con col taper fade che che impara da piccolo a fare il d'appo così si adappare bravo bravo è anche quando specie piccolo che gli spiega proprio tipo cosa c'è certa c'è il barbiere che tipo comunica solamente con gesti no con la testa di stanza spiega tutto si si dai pop distance si bellissimo eccola the cup grandissimo vegeta in questi giorni io tra l'altro sto apprezzando moltissimo il torneo del potere di super bello super bello fra i propri ritrovando sto ritrovando un po come dire c'è mi so che mi sto facendo trasportare dall'emozione dal ricordo della nostalgia però fra che ti devo dire no va bene il torneo la super si è salvato per il torneo del c'è nel senso super come opera in toto è un'opera veramente strana no è strana fra non è dragon ball è una sorta di ecco è come se avessero ucciso dragon ball e avessero rianimato un po il cadavere tipo hunter hunter quelle cose strane con il nen che tu dici ok dragon ball però non è più dragon ball e però il torneo del potere è meglio va bene atta sono sempre andati peggiorando purtroppo però ecco io c'è quando si parla di dragon ball da un po z diciamo ecco soprattutto che mi piace di più rispetto alla prima parte di anime anche a me io faccio fatica massima infatti c'è mo c'è sempre sta cosa no ma la prima l'avventura misteriosa ragazzi gocuda bambino clamoroso incredibile dai fra cioè se tu pensi dragon ball c'è io vedo proprio goku e vegeta super saiyan con tutta l'aura i fulmini attorno cazzati neri proprio cazzi muti si è capito non è che sto qui a scherzare c'è vedo queste cose qua non so non è che ma chiaro che c'è i suoi momenti incredibili nella prima parte ma bellissimi cioè stupendo la prima parte ma stupenda proprio però francia io penso da un volto la prima cosa che vedo goku e vegeta super saiyan enormi fra capi che si succia nel calcio si quello che rende forte dragon ball è impossibile da da determinare al cento per cento perché la quantità di fattori che si intersecano per creare questa roba trascendentale proprio è incredibile è incredibile c'è io proprio questa è una roba che con tantissime opere valide mi mi chiedo cioè quali sono sti elementi che mi stanno rendendo quest'opera così tanto superiore a tutte le altre che ho già letto visto nello stesso genere no c'è dragon ball proprio nonostante tutte le cazzate che può aver tirato fuori c'è funziona meglio di qualunque cosa io abbia mai letto sì funziona meglio di qualunque cosa io abbia mai letto sì 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 cioè io da piccolo la mia personalità era dragon ball oggi ci pensavo proprio a sta cosa no cioè perché stavo avevo aperto instagram sul mio profilo ho visto la foto di avevo postato il giorno che era morto torillama no ne stai parlando io proprio c'è proprio visto quel po è sì l'ho detto oggi perché proprio ce l'ho rivista ma che mi stavo commuovendo perché mi ricordo mi sono ricordato proprio il momento in cui l'ho caricata che proprio stavo io stavo mentre mettevo il posto piangendo ma come un pazzo fra perché la roba per me era impensabile che fosse morta la persona che ha creato quello che praticamente sono la nostra sì ma poi c'è proprio le fondamenta secondo me di quello che sono diventato pure capito cioè è praticamente magico nel senso che sono cose che lui fa con una nonchalance incredibile c'è tutto ciò che ha tirato fuoco vabbè chiaramente c'è tantissimo da da mettere in mezzo tra editor e tutto chiaro cioè non è che dragon ball è toriama e basta il cento per cento si sa ma voglio dire cioè quello che fa lui come lo fa lui nessuno lo ha mai fatto è fatto con la nonchalance tale che non può non risultare naturale umano sempre si vede che amava la vera l'amava tantissima inizi con un gag manga poi lo fai diventare un'avventura poi lo fai diventare proprio un power fantasy di alieni tutti pompati che fanno le onde energetiche sono dei mostri allucinanti fortissimi però rimane comunque un gag manga perché c'è magin bu però poi magin bu è allo stesso tempo l'essere più infame nella galassia però allo stesso tempo è un chiatone strano cioè c'è 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 un mix di un mix di cose che nessun altro sarebbe mai riuscito a fare ma farle facendolo funzionare capito è quello il fatto perché magari lo fanno ma risulta sempre stupido risulta sempre ridicolo cioè ci vuole un talento assurdo che poi lui era pure uno che ha studiato queste cose cioè comunque è uscito da una scuola di insomma era un artista come dire anche accademico la genuinità di quello che ha creato lui no è quello che la rende anche l'opera incredibile che è il fatto che sia genuino veramente che sia proprio così a metà sempre in un limbo sospeso tra la stronzata e qualcosa che ti lascia tanto dentro no ma tantissimo c'è un bambino che guarda dragon ball io te lo giuro c'è cresce completamente diverso da un bambino che non hai idea di cosa sia ma ne sono sicuro al cento per cento cioè può sembrare la stronzata più grande del mondo da dire così ma io certo ci scommetterei la vita su questa cosa cioè è vero sono è qualcosa che ti lascia veramente miliardi sì sì sono cose che proprio per un bambino per il tipo di linguaggio che c'ha anche perché torriamo era bravissimo proprio in questo in comunicare a persone di tutte le età ma soprattutto ai più piccoli secondo me cioè lo fa con un effetto glielo mostra a sti scemi sti poveri bambini con la bava alla bocca che non io neanche sapevo leggere quando guardavo dragon ball c'è ti comuni che in una maniera che è talmente naturale c'è il fatto che tutti i bambini veramente abbiano stato le mani al cielo tutte queste stronzate qua c'è sono se ma veramente le cose che ti dice tuo zio di 40 anni ma è la cosa più vera del mondo fra c'è su quello non sbaglieranno mai quello ti diranno queste cose non sbaglieranno mai è verissimo è verissimo ha fatto qualcosa che nessuno può aspirare a fare secondo me c'è quanto cazzo è forte goku porca miseria è il miglior è il miglior è il miglior io ti saluterò dai che perdissimo devo andare a mettere fuori la carta a casa dei miei genitori ci sta bro che non ci stanno sta facendo tardi quindi sì sì no infatti stavo per scrivere pensavo di mettere le due immagini e scriverti fammi sapere quando per tentare se capito è fatto bene a notificarmi bro è stato veramente bellissimo ha fatto un sacco piacere sempre fra non basta mai il tempo in realtà lo so lo so lo so c'è sempre qualcosa da fa purtroppo fra io faccio un bel montaggio fatto faccio un bel montaggino su youtube scarico il board lo levo e poi faccio una bella cosina su youtube che ci riguardiamo quando ci va va buono bro grandissimo fra apprezzo un sacco un saluto a te a tutti ragazzi scusate se non vi abbiamo cagato molto ma abbiamo parlato proprio del più e del meno grazie alle sub grazie di tutto e vediamo come si spinge stream yard va bene va buono vai vai esci un bacione ciao ragazzi buonanotte un abbraccione ciao alex ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti